Nelle scuole secondarie di primo grado dei territori coinvolti dal progetto abbiamo realizzato un percorso didattico in più step innanzitutto un laboratorio rivolto ad alcune classi in cui abbiamo cercato di trasformare l'immagine comune del conflitto che solitamente si vede come qualcosa di negativo da evitare in qualcosa di invece parte integrante delle nostre vite e anche momento di crescita quindi abbiamo lavorato con loro anche su consigli e piccoli strumenti di analisi per vivere meglio il conflitto. Il secondo step invece con un gruppo selezionato abbiamo lavorato al pomeriggio sul tema del video e quindi abbiamo realizzato insieme dei piccoli video accattivanti per parlare di questo tema ai loro coetanei. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!